Molto forniture, io sono consolidato dall'S2, ricevo tre caschi all'anno che vanno il mio team dal Monferrato al Sahara, io, Giorgio e Claudio. Questo casco abbiamo fatto un sorteggio sul suo internet e che sfiga ho, lamento Lussiana, Andrea. Almeno che non lo rinocci. Perché il secondo è Angelo De Cilis che gestisce la pagina con 10.000 utenti del Tenere, tu tratta. Allora, prego, a richiarare il quadro, sì, a richiarare il caso, vai. Bravo. Ma che roba. Molto bene. Cominciamo con la categoria Legend. Primo classificato vince una macchina del caffè espresso, omaggiata dal mio sponsor, Caffè Moca, Paolo Alberici, e una scatola di cialdè di caffè. Il secondo classificato vince, Gianmarco se me le prendi, con la coppia di gomme Dallop 908. Sono quelle gomme che abbiamo messo su un concorso. Anticipo già che tutti i vincitori delle cinque categorie, comunicando poi un indirizzo di posta elettronica, riceveranno per posta un biglietto d'ingresso omaggio per Motorbike Expo di Verona. Una gran bella fiera. Grazie a MBE che sono già nati via, hanno due ore e mezza di strada. Allora, vai. Partiamo dal terzo? Il terzo classificato, certo, come sempre. Queste le diamo al secondo, il terzo vince la moca. Il primo vince la moca. Ok, terzo classificato. Terzo classificato. Scusate. Roberto Giusto. Grazie a MBE. Come è andata? Bello, bello. È stata la mia prima gara della vita perché non ho mai partecipato. È stato emozionante e spero di farlo al prossimo anno. Bene. Secondo è stata combattutissima, ma anche in altre categorie. Secondo ha un soffio, poi ovviamente pubblichiamo. Mezzo punto di differenza, quindi ve la siete giocata. Stefano Provera, secondo classificato. Bravo Stefano! Svince l'etango! Bravo, com'è andata Stefano? Grazie, è andata bene. Mi sono divertito molto. Mi sono divertito molto ieri. Prima esperienza con navigazione e così. Veramente, veramente bello. Anche oggi è stato bello darsi del gas. Bravo. Grazie. Non ci credeva, eh? Bravo Stefano! Grazie. Primo classificato. Il giovane 507, Martin Cadile. Grazie a tutti Come è andata? Bene, bene Anche a me, più l'esperienza con la navigazione E anche con una moto, diciamo, trial Perché ero abitato, diciamo, alle moto di 90 kg Quindi, ma mi sono divertito moltissimo Sia la navigazione che il fettucciato È stato tutto ottimo questo filettore Grazie, grazie, un grande abbraccio Vorrei ringraziare ovviamente sempre Tipo a Leonardo e a Patrizia Che mi appogliano sempre La mamma e il papà Grandi, grandi Grazie